Buonasera, il mio nome è Esther Tagliaferri e l'intervento di questa sera era per una proposta, una proposta dove noi chiediamo una zona bianca, una zona bianca che possa darci la possibilità di riaprire e di riaprire comunque in sicurezza e di conseguenza vorremmo assolutamente che questa area bianca venisse presa in considerazione in quanto ogni area bianca può tornare a lavorare e riaprire, riaprire ripeto in sicurezza.